Salve a tutti ragazzi e bentornati da Mike's Show Shop, finalmente siamo qui con FIFA 17 Ci ho messo tantissimo a scaricare la demo, non usciva più, ma adesso siamo pronti a provarlo insieme Quindi mi raccomando voglio, esigo almeno 30.000 mi piace per questo video Anche perché quest'anno mi ha convinto sin da subito a partire dal nuovo motore di gioco Ma soprattutto oggi proviamo insieme la modalità The Journey, il viaggio In pratica vestiremo i panni di Alex Hunter, una giovane promessa del calcio inglese E vivremo la nostra avventura fatta di scelte che non riguarderà solamente le partite Ma anche tutte le scelte nel campo, fuori dal campo, in relazioni con i calciatori, con gli allenatori Ragazzi è veramente una figata, quindi proviamo il viaggio Mentre per quanto riguarda il gameplay magari lo facciamo in un altro video in cui confrontiamo FIFA con PES Ma prima di iniziare vi volevo dire questa cosa Mercoledì 28 settembre sarò al centro commerciale Anagnina E ci sarà un grandissimo torneo di FIFA 17 È un torneo a coppie, quindi ragazzi vi potete iscrivere con il vostro amico È completamente gratuito e chi vince? Vince ben due PlayStation 4 e due FIFA 17 Però ragazzi potete venire anche se non vi interessa il torneo Magari state insieme a me, giochiamo, stanno diciamo cavolate Anche perché è poco prima del Romics e siccome il Romics poi ci sarà il macello assoluto Quindi ragazzi se volete venire a scambiare due chiacchiere Diciamo è un po' più intima come situazione mentre il Romics poi ci sta al bordello Quindi vi consiglio caldamente di venire Trovate tutto in descrizione per iscrivervi al torneo Poi vi faccio sapere sui social gli orari in cui ci sarò Ho saputo che ci saranno delle offerte incredibili Tra l'altro è il giorno prima dell'uscita di FIFA Secondo me ci riusciamo a caparare anche il gioco in anticipo Ma dette tutte queste cose ragazzi Io inizierei con la modalità il viaggio Eccoci qua Siamo nel Manchester United C'è uno che si chiama Gallo Ragazzi stiamo vivendo il sogno Ma il sogno di tutti Lì lì Dai Ce l'abbiamo fatta ragazzi Siamo nello spogliatoio del Manchester United Eccoci qua Ecco i bra Ok No pensavo che si sta prendendo il sole Dai Ok quindi noi stiamo in panchina Nessuna pressione amico Voglio i tre punti intesi Fanne uno per me Wow ragazzi prendiamo le decisioni E questa è la cosa fichissima Cioè per un gioco di calcio non è mai successo Non voglio pressioni Voglio i tre punti Fanne uno per me No Nessuna pressione amico Ma piccato Beh pure io ragazzi Beh pure io ragazzi Niente pressioni che equivale Ammette che va Vai vai ragazzi Siamo panchinari Non ce ne frega niente Questa Sono sicuro ragazzi Questa modalità su Youtube La porteranno tutti Però è sempre come la porti Io spero ragazzi Che la seguirete In mia compagnia Chelsea Manchester United Possiamo controllare la squadra O controllare solamente Hunter Ah ok Un po' come succede Nella carriera giocatore Prima la squadra E poi magari ci facciamo una partita Solo con Hunter Almeno controllando la squadra Vediamo anche il gameplay totale Di questo nuovo FIFA Com'è Che non ho capito Se quel Walker È il nostro rivale Ragazzi Stanford Bridge Fa paura Io ci sono stato Una cosa assurda Ci vediamo in panchina Ho l'impressione Che si stia cagando Leggermente sotto Però Chi non lo farebbe Ecco Walker Che entra Che stronzo però ragazzi Io non ho capito Se è un amico o un nemico Perché ci ha guardato Proprio con un'aria Ma io gioco Te no Eccolo va Ha pure segnato L'infame Questa ragazzi È la prima volta Che lo provo Quindi Cioè però Ibra in panchina Pogba in panchina Dai Siamo felici Per il nostro amico Però Voglio giocare anche io Con calma Con calma Mister tanto lo sai Che se me fa entra a me Oh Jose Eccolo Jose Mourinho Che succede Che succede Qua entra un ragazzino Va Hunter O meu Oh you Riscaldo di Hunter Vai stai che resta a prende il sole Eccolo Eccolo Chi sei E poi ragazzi Non so se lo sentite Ma ci sono i commentatori Che stanno parlando di noi Sul fatto che Stiamo al nostro debutto Che è molto difficile In quest'ambiente Welcome to the Premier League Welcome to the Premier League Benvenuto in Premier League Ok Vai Te preoccupa Sei pronto ragazzo? Voglio giocare È solo un'altra partita È tutto così incredibile no? Voglio giocare Dai 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 ragazzi Siamo abbastanza impulsivi In questo inizio di carriera Però Porca vacca Cioè Mi fomenta troppo Ok Dobbiamo fare Sette Passa in vantaggio Segna il prossimo call Spezza l'equilibrio Vinci la partita Dai So pronto Mister Fammi entra Sto caricando Come una mina Ragazzi Quando il gioco uscirà Ovviamente Proverò a portarvi Ovviamente i soliti Pack opening Stamoledalità Perché Secondo me È veramente Troppo figa Vai Alex Hunter È al debutto Ok Darmian Cambiamo la visuale Ok ragazzi Questo È la nostra Prima volta Su FIFA 17 Cambia un po' Come sa È un po' Molto più lento Eccolo Alex Hunter Prende la sua prima palla E tagliela Segna Sì Ho segnato subito Così Al primo gol Al primo tiro Alex Hunter Non ci credo Ragazzi Al primo pallone Che ho toccato L'ho buttato dentro La Daruni Come ha protetto palla Spapam Vabbè Courtois È una figurina Col sinistro Alex Hunter Il cacciatore E poi graficamente È bellissimo Mamma mia Enter risolve Le partite Alla Kiko Magueta Alex Hunter Oh no è un cacciatore Vai Hai capito Walker Ho segnato anch'io Ok Dammi sta palla Dove cacchio vuoi andare Party Hunter Solo ragazzi Sto giocando con l'Xbox E con Ce l'hai i numeri No non c'ha le skill Vabbè non fa niente Oh l'hai visto Solo che non riesco Con il coso dell'Xbox E non me ci trovo moltissimo Che piedi storti Matic Mi sei piaciuto Oh Antonio Conte L'ho schippato Avete visto Che figata ragazzi Quest'anno c'è veramente un sacco di roba C'è tanta canna al fuoco Io me ne vado Che rappa Sono velocissimo Alex Hunter Tanti al portiere No Sbagliare Alex Vai Hunter Vai Hunter Che gliene fai un altro Guardate ragazzi C'è un nuovo modo per battere i calci d'angolo L'avevo letto Possiamo anche cambiare il giocatore No come va Ecco Gammelo a me Uh Di testa Alex Hunter Oh però colpo di testa mediocre Stoffa schifo Mannaggia No l'ha fatta Hunter ancora Cazzozza Hunter Sei un cane oh Ah no no Aveva presa Smalling Ok Mi piace ragazzi eh Vabbè ci devo ancora giocare Devo fare le L'amichevole però Ci sarà Uh Modiccio Te la sepe Albero Albero La devi fischiare Ah Mannaggia Ma vabbè è innescato bene Era potenzialmente buona Dai José Non ti deludo Sei andato Come si è fermato ragazzi Vai Hunter Col sinistro No Vai Hunter Lei è prista State là Ma se io tirassi una bomba da qua Una bomba Si ferma Si trova lo spazio Eh vabbè Levati Levati che quello andava in porta Guardalo Vai 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 Hunter Vai Hunter Ah Regà mi sto a fomentare Minuti infiniti Non finiscono più T'ammazzo Lo uccide Darmianna Italiano vero Eh vabbè Che ammonisci Arvidro Eh cioè Fallo legittimo Autodifesa Le Uh Porca zozza L'ho ucciso Le scivolate Ecco Antonio Conte Ciao mister Ti immagini ci fanno quella adesso Rosi come un cane Oh Oh Via via Arbero Fischia Chi seguire Attaccante James Hunter Ok Ah ok ragazzi Quello che ho capito io Quell'Alex Hunter è il nostro padre Ma penso tipo padre adottivo E finisce qui E per quello adesso in inglese Io giocando non ho capito molto Ma comunque abbiamo vinto Con Ibrahimovic in panchina E anche Pogba Eccolo qua Il debutto di Hunter Vincente Eh Walker Zitto Quest'orecchia sventola Zitto Prestazione Target set 7 e 6 Ci sta Gol 1-1 Ho vinto L'ho fatta tutte Tuck Hai dimostrato un gran Tio del gol Prova a conquistare una punizione Invece di perdere il possesso palla Vabbè mister Adesso ho pure giovane No vabbè Ci fanno L'intervista Post partita E' il potenzialmente Il più bel FIFA Di sempre Vai Bisogna sempre farsi trovare pronto Oppure ho guadagnato follower Ma che figata è Vabbè Vabbè in realtà c'è Una cosa simile In realtà c'era anche Su NBA Però Per iniziare a scoprire più Un giorno emozionale per te Allora Alex Un commento di share Il tuo debut Con il tuo amico E il tuo amico Gareth Walker Ah quindi Il nostro compagno Di merende Gareth Walker Perché io sono bravo ragazzi No come lui Ok un commento su stasera La squadra ha giocato bene Ogni partita fa storia a sé Chiunque vince Vorrei dire di no Con me in campo Non possiamo perdere Sbaroni Io direi che Facciamo 0 a 0 Come quando Vengono intervistati i calciatori Eh Ecco infatti abbiamo perso follower Però L'allenatore è contento È quello l'importante Grazie Alex Grazie Grazie Welcome to the Premier League This young man Has everything We're gonna make history Incredible Hunter My name is Alex Hunter You don't know me But believe me You soon will Boom ragazzi C'è Questo è un trailer Bellissimo Mi ha messo la scimmia Queste cose Mi fomentano Ai livelli di goal Ecco Santiago Munez Non so se l'avete mai visto Quindi non vedo l'ora di portarlo Anche se oggi Su youtube Saranno usciti 8 miliardi Di video su fifa Però ragazzi Non è quello che porti Ma come lo porti Io spero che quando il gioco uscirà Porterò sicuramente The journey E il viaggio Insieme ad Alex Hunter Perché mi sembra Veramente interessante Abbiamo portato la modalità carriera Di NBA Penso che questo di fifa Sia Un po' più spettacolare Un po' più scritta Dal punto di vista Della storia Vi ricordo quindi Il torneo Il 28 settembre A Roma Il 17 settembre Insieme a Brazzo Ci vediamo a Mestre Tutti i dettagli In descrizione Lasciate tantissimi Mi piace per questo video Un saluto a tutti A me Ciao 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 Ciao